Ciao Sara, allora, guarda, stiamo allestendo, ti bisogna una mano, questo progetto si chiama progetto ricreazione ed è nato nel periodo della quarantena durante queste settimane questi mesi ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare noi come giovani per aiutare i bambini ciao bambini oggi decoreremo insieme la mascherina siete pronti aiutarli come beh da un lato sicuramente a capire a comprendere meglio se possibile in qualche misura cosa fosse questo virus e dall'altra parte magari aiutarli proponendo delle attività per intrattenere il loro tempo e quindi c'è venuto in mente un po questo progetto che inizia con una storia che abbiamo intitolato la città arcobaleno e che vede come protagonisti una mamma e due bambini che lungo i sei episodi dialogano e si interrogano sul perché ad un certo punto la loro città si è ritrovata invasa tra virgolette da un piccolo mostriciattolo e per cui lungo questi episodi avremo un nostro volontario che sarà il narratore che racconterà un piccolo pezzo della storia e poi avremo una proposta gioco un'attività che proponiamo ai bambini da poter svolgere da soli o con le loro famiglie